Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV Mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video e in più seguitemi anche su Instagram perché lì pubblicherò molte foto relative sempre al canale Allora ragazzi andiamo a fare quest'oggi, questo ce lo mi manca con queste figurine derivanti da degli scambi dei quali avete visto sicuramente lo spacchettamento nei video precedenti quindi andiamo ad inserirle all'interno del nostro album di Russia 2018 Allora la prima figurina che troviamo è la 43 che è Golovin della Russia Eccolo qui che ci manca Poi abbiamo la 96 che è Godin dell'Uruguay che è uguale, è una figurina mancante per questo saranno quasi tutte mancanti Iniesta della Spagna con il 146 Portogallo e Spagna 146 Iniesta un'altra figurina mancante Poi abbiamo del Marocco Saïs col 157 Eccolo Poi abbiamo la 220 che è McGowan dell'Australia Poi abbiamo la 259 della Danimarca che è Jorgensen Poi della Croazia abbiamo Kramaric con il 328 la figurina numero 328 quindi andiamo avanti Argentina Islanda e Croazia finalista sorpresa di questo mondiale doppione ce l'ho Poi Nigeria non abbiamo trovato nessuno dobbiamo arrivare alla 404 del Costa Rica quindi Brasile salta Svizzera salta Costa Rica il 404 ce l'ho ecco qua Borges doppione dopodiché dobbiamo andare alla Serbia Nastasic doppione l'ho trovato la Germania abbiamo trovato nessuno questa volta del Messico abbiamo Herrera 464 Herrera che è stato nel mirino in estate di molti club italiani tra cui anche la Roma Herrera che è in forza al Porto giocatore molto interessante classe 1990 quindi 28enne del Porto 488 ce l'ho Ketelin Berg con il 489 mi manca della Svezia che ci ha eliminato questi mondiali naggio la pupazza e poi lo scudetto della Corea che mi manca 492 poi saltiamo il Belgio saltiamo il Panama saltiamo la Tunisia l'Inghilterra dobbiamo arrivare la Polonia al Senegal col 623 Ndoie che è doppione poi dopodiché Colombia abbiamo la figurina 645 che ce l'ho a doppione e poi per ultimo il Giappone che abbiamo la 660 che mi manca che è Sakai ragazzi per questo ce l'ho mi manca è tutto io vi saluto ci vediamo al prossimo video con Russia 2018 ma anche soprattutto Adrenalin in questo periodo e poi con le nuove uscite tra cui FIFA 365 i calciatori quanto usciranno quindi ragazzi non perdetevi veramente le prossime uscite sul canale ciao a tutti ciao a tutti